Una festa della birra che fa della musica e della gastronomia di qualità un marchio di fabbrica è la seconda edizione del September Beer Fest ad Andria che continua la propria attività alle pendici di Castel del Monte sino al 3 settembre. Un'occasione incredibile per il nostro territorio quella della valorizzazione gastronomica attraverso anche una cornice spettacolare come quella di una grande festa, un grande evento legato al mondo della birra che attrae curiosi ma non solo anche tanti appassionati. Una forza organizzativa basata su una pattuglia di oltre 25 ragazzi che si sono cimentati con entusiasmo in questa grande impresa di poter lanciare anche in manifestazioni di questo tipo di tipo festivaliero nelle lotte importanti di tutta Italia. Sabato scorso è stata la volta dei VAS connessi ma tantissime sono le band che si stanno alternando sul palco del September Beer Fest. È una serata innanzitutto dal punto di vista meteorologico meravigliosa, la location è anche posso permettermi di dire più bella di quella dell'anno scorso, è molto più curata, è molto più accogliente, sicuramente ci sarà una meravigliosa serata come quella dello scorso anno che ricordiamo ancora con molto piacere. Il decennale della nostra band, quindi a settembre noi faremo due grossi eventi, uno a Cassano Morge a margine della festa della birra di Cassano Morge, il 10 di settembre e l'altro il 15 a Taranto per festeggiare appunto il nostro compleanno di 10 anni.